Se nel giovedì santo predomina la solennità dell'istituzione dell'Eucarestia, dell'istituzione del sacerdozio e della Chiesa di Cristo, e nel venerdì santo la mestizia, il dolore e la penitenza, nel ricordare la passione e morte di Gesù con la sua sepoltura, nel sabato santo invece predomina il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel sepolcro. Poi verrà la gioia della domenica di Pasqua con la sua resurrezione, ma nel sabato incombe il silenzio del riposo della morte. In questo giorno, nella diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro, l'arcivescovo Riccardo Fontana presiderà alle nove del mattino l'ufficio delle letture e le lodi nella cattedrale di Arezzo. Quindi ci sarà l'appuntamento con la veglia pasquale che Sant'Agostino definiva la veglia di tutte le veglie. Monsignor Riccardo Fontana presiderà la celebrazione nel Duomo alle 23, durante la quale si svolgerà il rito dell'iniziazione cristiana di alcuni adulti. La veglia sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente. La domenica di Pasqua, l'arcivescovo presiderà alle 10.30 la messa nella cattedrale di Arezzo. Alle 18 sarà invece nella concattedrale di San Sepolcro. Infine, martedì 18 aprile, l'arcivescovo Fontana sarà nella concattedrale di Cortona alle 17.30 per la processione del Cristo risorto.